Un gemellaggio calcistico, ma anche culturale, tra il Cianciana, piccolo club di terza categoria, e il West Ham United, storico club di Premier League, la Serie A inglese. Le due realtà calcistiche, geograficamente così distanti, sono state riunite dal famoso attore e regista inglese Ray Whiston, protagonista di La Leggenda di Beowulf, Point Break, La Bottega degli Errori e tanti altri. La notizia è stata annunciata nei giorni scorsi dal presidente del Cianciana Calcio, Pietro Settecasi, e dal dirigente Rolando Montalbano, che hanno reso noto come Ray Whiston stia portando avanti l'iniziativa sportiva che si concretizzerà con un prossimo incontro tra i dirigenti e i calciatori delle due società. Ray Whiston è, al tempo stesso, sponsor sia del West Ham sia del Cianciana, comune dove risiede periodicamente in una lussuosa villa incontrata a Balata, comprata nel 2012. L'attore continuerà a venire spesso a Cianciana e proseguirà nelle sue sponsorizzazioni. Il Cianciana Calcio, che è allenato dal tecnico italo-belga Nicolò Benerrigo, non vede l'ora di poter conoscere di presenza la squadra Maranto e, perché no, magari volare anche a Londra. Programmi ambiziosi per la società ciancianese, che con la prossima squadra in via d'allestimento per il campionato 2020-2021 intende puntare alla promozione, grazie alla collaborazione appunto di Ray Whiston, dell'amministrazione comunale, dei dirigenti e dei tanti appassionati. Ray Whiston, in queste foto di repertorio proprio mentre si trova a Cianciana, è soltanto uno dei tanti anglosassoni affascinati dal territorio agrigentino, che hanno cominciato a frequentare il comune e acquistare casa. Attualmente sono oltre 200 le famiglie straniere, provenienti da ben 18 paesi del mondo, che risiedono più o meno stabilmente a Cianciana. Un fenomeno spesso protagonista delle tv nazionali, con gli stranieri che scelgono la cittadina agrigentina per la sua tranquillità, per il costo basso delle abitazioni, per l'accoglienza, per il territorio e per la disponibilità dell'amministrazione, che semplifica burocrazia e acquisti.